Ciao a tutti! Mi vedete vestita come nel video precedente forse o forse in quello prima cioè c'è uno in cui sono vestita così di mezzo e un altro in cui sono vestita così Anche io ci sono Ma it's not a problem Come l'altro Se avete visto il video precedente comunque non vi sto a spiegare il motivo per il quale io sono vestita così Comunque, niente, allora vi volevo dire che questo è un video collaborazione con il mitico Nicola Svolpiana La fine era con questo Pix, con Nicola Svolpiana vi volevamo raccordare il nostro matrimonio Ok, dovete sapere la verità che al mio matrimonio ci sarà Nicola Svolpiana ma non perché sarà lo sposo ma perché sarà il wedding planner Sto parlando come il conduttore di Take Me Out Non so se guardate alle 20.10 tutti i giorni Faccio pubblicità a caso Alle 20.10 tutti i giorni su Real Time c'è un programma che si chiama Take Me Out Che faccio da vedere troppo Vabbè, sono 10 domande inerenti al matrimonio Allora iniziamo Questo è il mio clim Ti piacerebbe sposarti? Assolutissimamente sì Se dici no alla prima non puoi rispondere al tag Molto bene Tre In che mese ti piacerebbe sposarti? Mi piacerebbe settembre Quattro Civilo Cioè in realtà mi piacerebbe settembre perché la mia famiglia ha una tradizione di sposarsi tutti il 14 settembre Di conseguenza vorrei mantenere questa tradizione In che mese ti piacerebbe? Civilo Religioso Religioso Mi piace anche civile ma l'idea della chiesa mi piace un sacco Cinque Come vorresti il tuo vestito? Allora Enorme Un bel corpetto aderente Un po' come questa maglietta Vado a prendere un nuovo Così vedete Aspettate Dritto così Cioè Fatto bene così Dritto da tutte e due Tutta la parte Aderente fino a Sotto l'ombelico E poi Una gonna tutta puff Così Di Nero Tutto nero il vestito Con i brillantini Ricordate in Kirby Aventure peluche Questo qua Non lo voglio Kirby Voglio te Sì Ma hai hurt Ok perfetto Andiamo avanti E niente Il vestito lo voglio nero Sì stai così amore Mi hai scontato No amore io ti amo Non voglio Kirby Amore Vabbè E andiamo avanti Il vestito tutto nero Così con i brillantini Fiori Assolutamente rose Bianche e nere Mi piace un sacco No Sette Dove andresti a mangiare Cosa farei da mangiare I tuoi mitati Allora Il menù ancora Non l'ho scelto Però Oggi ho scelto Il ristorante Che si chiama La Vascerie Che è dove ho fatto La comunione Mi pare Tutti al Vascerie Sì Vascerie La seconda E Farò da mangiare Assolutamente Un mix Però niente pesce Perché io Non odio il pesce Ma non voglio farlo mangiare I miei invitati Carne Comunque Se ci sono vegetariani O vegani Cosa molto probabile Mangeremo tutto il resto Vegetariani Vegetariani Non mangiano la carne Vero amore Poi Otto La tua torta nuziale Come deve essere Allora deve essere Di tanti piani Però Semplice Nel senso Pan di spagna Pana montata E crema chantilly Crema chantilly E fragole Punto Senza Pasta di zucchero Con minchiatela Glassa Non voglio cazzo Poi Nove Le fedi come le vuoi Allora Devo decidere con lui Perché devo anche vedere Com'è lui Il mio partner Però Penso No Penso delle fedine Molto semplici Oro bianco Magari Con un brillantino In mezzo Cioè A me è un po' più grande A lui Un brillantino Piccolo Cioè Un po' Serio Non vi so spiegare Però Cioè Capitemi Dieci Non potremmo mai sapere Chi si porta All'altare Ma ricordiamoci Che questo è tutto un sogno Ma un giorno Andremo a vivere Questo video No Non potremmo mai sapere Non riesco a leggere Amore Se continui a parlare Dieci Non potremmo mai sapere Che ci si porta All'altare Ma ricordiamoci Che questo è tutto un sogno Ma un giorno Andremo a rivedere Questo video Per prendere nota Esatto E vedremo anche Su uguale Dimmi amore Ehm Me lo immagino già Perfetto Io comunque Ringrazio Nicola Svolpiana Per avermi Assolutissimamente Taggato In questo video Inventato da lui Meraviglioso Perché veramente Mi sono divertita un sacco Cioè Ho parlato tutto un po' veloce Ma perché praticamente Come ho detto nel video precedente Dove l'ho vista così Sto aspettando che vengono a prendermi Per andare a ballare Ehm Mi sta scappando un po' Cacca adesso Ok ok Fai un sospettone Beh stasera cercherò Di farvi un bel video Su Instagram Così a me lo sentite Un po' che musica c'è Comunque French Corro la manetta Aspetta aspetta Dottor Peacock Aspetta Non andare a prendere Kirby Perché trovo Lo ammazzo Giuro lo ammazzo Chiudo il video eh Ti prego Dai Ok ok Aia Piange Non volevo Farti questo E invece Comunque Raya Mi sono spaccata a merda A vedere il video Della Luffina Ho buttato via Aiuto Il video Della Luffina Quello dove fa vedere Tutti i meme Certo male Io conterò I 30 giorni Lo fa Stai attenta Anch'io Dai su amore Adesso basta Devo andare a scaccolare Il mio sedere Capicci cuore Ho capito Scalcolarmi Si vado a scaccolarmi Ciao 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 D'illa